Ciao ragazzi, finalmente ci siamo, bentornati su Paolo Detrane, il mio canale YouTube dove parliamo di un sacco di cose, dove vedete tante cose, troppe cose, forse quello è il problema, o forse troppo poche a volte, non sono, diciamo la costanza, l'orologio parla, diciamo che la costanza non è il mio forte, però ci provo, ok? Sto facendo, sto cercando di fare un vlog settimanale, diciamo, chiamiamolo vlog, un riassunto della settimana e non ci sto riuscendo, ma perché siamo qui oggi? Oggi finalmente, dopo secoli, secoli e secoli, vi vorrei parlare della X-T2, del Battery Grip e anche della X-Pro2 e poi anche dei Flash Yongnuo e anche dei, senti di quante cose devo parlarvi, ma oggi in particolar modo parleremo principalmente della X-T2, ormai ce l'ho da diversi mesi, da diversi mesi, stiamo parlando di settembre, ottobre, adesso siamo a marzo, per cui l'ho veramente potuta testare in tutte le situazioni, condizioni possibili e immaginabili, sia video che foto. Come sapete non farò una recensione, di recensioni ce ne sono quante ne volete online, ma piuttosto vi darò un parere personale, che rimane il mio parere personale, ok? Quindi sicuramente ci saranno altri che la pensano diversamente da me, ma che ci posso fare? Il mondo è bello perché è vario. Un'altra cosa, Fuji non mi paga per dire quello che sto per dire, assolutamente, non mi sponsorizza, non mi fornisce attrezzatura, niente, ok? Perché dico questo? Perché io credo, credo, anzi non credo, sono sicuro di aver trovato la macchina quasi perfetta. La macchina perfetta non esiste, però la macchina che mi soddisfa, la macchina fatta per quello che devo fare e mi piace davvero tanto, questa XT2 è davvero notevole, scusate, tolgo la suoneria al telefono, perché io sono sicuro che mentre parlo suonerà il telefono, non so perché, ma è sempre così. È un ottimo compromesso tra peso, dimensioni, qualità, versatilità, materiali, insomma io sono estremamente soddisfatto di questa XT2, non ci sono, e non lo dico perché ripeto, Fuji non mi paga, ma io non ci sono difetti clamorosi che voglio evidenziare in questo video, non ne ho trovati. Allora, partiamo dai pregi, i pregi sono, cercheremo di trovare anche qualche difetto, i pregi sono sicuramente una, un'ottima qualità fotografica direttamente in camera, quindi i jpeg di questa macchina, ma come quelli della X Pro 2 e anche come quelli della XT1, se vogliamo, sono davvero molto, molto, molto belli e utilizzabili subito, direttamente come escono dalla macchina fotografica. Quindi il jpeg esportato dalla scheda SD è utilizzabile negli eventi, nei matrimoni, nelle situazioni dove avete bisogno di consegnare foto velocemente, senza post-produzione, è una figata pazzesca perché da qua escono dei file davvero molto belli, se si sta attenti in fase di scatto non avrete assolutamente problemi. L'altro pro che voglio evidenziare è sicuramente l'autofocus. L'autofocus è stato migliorato in maniera incredibile su questa macchina fotografica. Già lo avevo potuto apprezzare sulla X Pro 2, ma qua hanno fatto, diciamo, un passo ancora in più, fornendo delle impostazioni, dando la possibilità di impostare l'autofocus continuo, per esempio, in diverse modalità, molto, molto efficace. Come sapete io scatto molto anche barche a vela, per esempio, quindi mi trovo su un gommone in mare, in movimento, con una barca da fotografare in movimento e per l'autofocus è importante e devo dire che qua, qua ci siamo. Teleobiettivo, quindi 50-140 o 100-400 montato con, sulla XT2 con il battery grip, nessun problema, nessun, nessun problema. Molto, molto efficace. L'altra cosa che mi è piaciuta tantissimo è proprio questo battery grip, che non è ovviamente necessario per far sì che la macchina funzioni, ma è molto utile per fare questo, quindi la possibilità di scattare in verticale come se fosse, come se, come quando scattiamo in orizzontale, i pulsanti di scatto, la possibilità di bloccarlo, i due pulsanti funzioni utilissimi, il joystick che viene riportato anche per l'utilizzo in verticale, è davvero una figata. Questo joystick ormai già super apprezzato sulla X-Pro2, non posso più farne a meno. È incredibile quando con la Panasonic, che è la macchina con la quale sto riprendendo adesso, mi capita di fare delle foto, sono sempre a cercare il joystick che purtroppo non c'è. funziona molto bene, è molto molto utile. Qua, a differenza della X-Pro2, che forse aveva questo piccolo, ve lo faccio vedere, questo piccolo difetto del pulsante di bloccaggio degli ISO, che non c'è sulla X-Pro2, quindi va alzata la ghiera, molti si sono lamentati, io sinceramente l'ho trovato molto, molto intuitivo, molto normale, perché viene un po' dalla pellicola. Qua c'è la possibilità, sia dalla parte degli ISO, che dei tempi di esposizione, di bloccare e sbloccare la ghiera, appunto, degli ISO e dei tempi, in modo che non si sposti accidentalmente. Rimane la ghiera della compensazione-esposizione, che è molto molto utile, che permette, mettendola sulla posizione C, di fare più o meno tre stop, se non mi sbaglio, forse quattro stop, anche da ghiera frontale, quindi dalla ghierettina frontale, questo permette, senza fisicamente, che a volte quando siamo in questa posizione andare qua è scomodo, quindi se lo lasciate su posizione C, con la ghiera frontale potete variare la vostra esposizione direttamente da qua. Molto molto comodo. Per quanto riguarda il video, sono rimasto incredibilmente sorpreso, dalla bellezza, di nuovo, dalla bellezza del file che esce da questa macchina. Il file video che esce da qua è molto bello, è difficile da spiegare, è come se fosse una foto su pellicola Fuji, ma in video. Tutte le impostazioni di simulazione film che potete impostare sulla pellicola le potete impostare anche sul video. Per non parlare poi della possibilità di avere un D-log, purtroppo per adesso solo sul supporto esterno, quindi se collegate la macchina ad un hard disk esterno potrete avere un D-log fantastico da poter poi dopo correggere color grading, fare color grading in post-produzione in maniera più approfondita. Veniamo alla durata delle batterie. Una delle cose che mi avete chiesto di più, anche senza battery grip, mediamente durante un matrimonio, quindi considerate che un matrimonio io scatto mediamente 1000-1200 foto, riesco a farlo con due batterie, a volte tre, ma raramente mi è capitato di dover utilizzare la terza batteria. Ovviamente bisogna essere un po' accorti. Io tengo impostato il sensore ottico in modo che lo schermo sia sempre spento. Io quando avvicino l'occhio si attiva il mirino, quindi uso anche questo per abitudine venendo dalla reflex. Utilizzo veramente molto poco lo schermo per inquadrare, anche se inizio a trovare utilissimo e inizio ad utilizzarlo in situazioni dove è necessario avere questa versatilità, quindi avere la possibilità di fare inquadrature dall'alto o dal basso, scusate, o dall'alto se avete necessità di guardare lo schermo mentre inquadrate senza appoggiare l'occhio, diventa molto utile e basta, niente. Quindi come vedete lo schermo sta acceso, quando io avvicino l'occhio lo schermo si spenge per dare priorità al mirino, all'EVF, al mirino elettronico. In questo modo salvo un po' di batteria, ma si può addirittura settare con lo schermo sempre spento, questo anche nella X-Pro2 e già anche nella X-T1. Devo dire che col battery grip dura, insomma, avete un'autonomia di, ma non lo so, io non ho mai contato gli scatti, ma credo che siamo tranquillamente intorno ai 1200 scatti, 1100, una roba del genere, forse anche qualcuno in più, in base alle impostazioni che utilizzate. Mentre per il video ho fatto delle serate dove ho utilizzato la X-T2 per fare video interviste o addirittura dirette online, dirette YouTube, anche di un'ora e mezzo, anche di due ore, non ho mai dovuto cambiare la batteria col battery grip, mediamente non ho mai avuto nessun problema. Quindi se state cercando una PSC, una mirrorless, che possa sostituire la vostra Reflex Nikon o Canon, quello che avete, beh, sicuramente valuterei la X-T2 perché è davvero davvero un ottimo pezzettino di tecnologia, Fuji ha fatto un ottimo lavoro, a me piace davvero tanto, la uso continuamente, ormai come sapete ho venduto tutta la mia attrezzatura Nikon, per cui mi affido a queste due ragazze per tutti i miei lavori. Spero sia stata utile questo piccolo video parere sulla X-T2, qualsiasi domanda resto a disposizione, trovate il link qua sotto per contattarmi, ci vediamo presto, ciao!